Mega Box Volley e Ente Carnevalesca di Fano organizzano per sabato 10 febbraio al Pala Mega Box di Pesero il Tigers Day, ovvero una giornata di festa dedicata agli atleti della squadra biancoverde. A partire dalle 17 l'impianto sportivo peserese ospiterà un evento pieno di musica, allegria e sport che culminerà con la partita tra Mega Box Van Le Foglia e Savino del Bene Scandici, valida per la settima giornata di ritorno del campionato di pallavolo femminile di A1. Protagonista sarà il Voulon, maschera tipica del Carnevale di Fano cui sarà affidato il tradizionale getto di Dolciumi. Un pre-partita che sarà anche aglietato dall'esibizione dal vivo della cantante Melissa Gliottone, vincitrice di The Voice Italy Kids e rappresentante italiana al Junior Eurovision Kids Contest. Sarà una bellissima giornata di festa con tanta gioia colore e non solo ma anche dolce perché il Carnevale di Fano è il Carnevale più dolce d'Italia e quindi oltre alla felicità delle maschere del Voulon e della maschera del Carnevale di Pesero ci sarà contraddistinto quindi dal lancio anche di Dolciumi. Quindi la pallavolo sarà ancora più dolce e felice e ci auguriamo che ci sia tanta partecipazione perché è una partita per megavolle importantissima. In più quest'anno il Sindaco del Carnevale di Fano è Rabachen che è la maschera di Pesero e quindi siccome il Carnevale quest'anno vuole un po' disturbare perché il tema di quest'anno è proprio il disturbo fuori dalle righe e dagli spazi, abbiamo pensato anche per onorare Pesero Capitale della Cultura a questo Sindaco che ha fatto un certo scalpore, però convinti che durante il Carnevale tutto si livella, ma come posso dire non ci sono belli brutti, bianchi, neri, ricchi, poveri e non ci sono campanilismi. Quindi questa è la grande forza del Carnevale che dal 1347 ad oggi Fano si porta dietro.